Tutto completamente a mano da Fabiola, 110 euro, guardate le orecchie a sventola, uno spettacolo, più brutti sono più belli sono, ma che carino è, ma che musetto, guarda che profilo, guarda, 110 euro, opera unica, l'840, poi, l'841, l'841, Gnoma, si dice Gnoma? L'841, Gnoma femmina, 55 euro la richiesta, sempre lavorata, tutta infinissima porcellana, vestita tutta quanta dalla Fabiola, dalle babbucce ai pantaloni, La gonnellina in pizzo, l'altra gonnellina in velluto, passamaneria, girasoli, capelli rossi, trecce, mezza mela, la cucinella porta fortuna, 55 euro, 55 euro, te la dico subito quanto misura? È un piacere, misura 32 centimetri, 32 centimetri, eccola qua, la gnometta, 32 centimetri, 55 euro, capolavoro che dalle mani, esce dalle mani della signora Fabiola, guarda che naso che ha, mamma mia, poverina, poverina, guarda che naso. Poi, andiamo su un ognometto, Gnomo bimbo, questo è un Gnomo bimbo, l'842, Gnomo bimbo, perché si vede che qui ha il viso proprio da giovane, Allora, l'842, sempre alto, 33 centimetri, 32, 33, quello è la tacca, sempre 55 euro, l'842, vedi? È bimbo, si vede che ha lo sguardo, vedi, ancora da giovane, ha i capelli, è turchini, il cilindro, vedi? Eccolo qua, il capello a cilindro, la forma di cono più che altro, riempito di fiorellini, di stecche di cannella, di fiorellini, 55 euro, con il gilet. Guarda che bello, guarda che musetto che ha, veramente bellissimo, fai vedere, ecco, questo è un gnomo bello, di solito i gnomi devono essere brutti, questo è invece un gnomo col viso angelico, vedi? Che carino. E lo metto via, poi, bambola, bambola, 143, l'8, 143, sempre 55 euro, qui c'è tutta la garanzia, tutta infinissima porcellana, bambolina rosa, scrivi eventualmente bambolina rosa a Brenna, vestito creato dalle mani sempre della signora Fabiola, vestita di tutto punto, scarpettine in pizzo, pantaloncini in shantum, vestitino in lurex rosa, coperto da giri di pizzo, giri di merletto, coperto da organza, perché non è solo, vedi, qua c'è il tessuto, vedi? Per calmarlo un attimo, questo rosa, molto shocking, l'ha coperto da un'altra gonnellina in organza, e l'ha tenuta fissata con queste applicazioni di merletto e di pizzo, sopra gonna in pizzo, cuffietta realizzata anch'essa con lurex e pizzo, 55 euro, 55 euro. Da che bella? Vieni amore, guarda come sei bella, con una cascata di riccioli biondi, tutta infinissima porcellana, vi dico quanto è alta, ci mancherebbe altro, bellissimo fiocchino, questa è alta 23 centimetri, 23 centimetri, 55 euro, voi avete l'idea, capite quanto ci è dovuta stare dietro per fare un piccolo gioiello di questo genere, l'843, 55 euro, l'844, questa è alta, questa è in avorio, 144, questa è alta 28 centimetri, 28 centimetri, l'844, la richiesta è di 87 euro, questa costa di più, 144, viene a 87 euro, abitino anche qui, tutto in pizzo, vedi parte da sotto, vedi i pantaloni, le calze erette, le babbuce in merletto, via di vestito di raso, coperto da gonne e gonne di pizzo, applicazioni, profili di pizzo, di merletto, cuffiette in testa, riccioli, questa qua la mettete come meglio vi pare e piace, occhi di vetro, questi sono gli occhi di vetro, 87 euro, lavoro di pazienza, di manualità, eccola qua, spettacolare, della Fabiola, 87 euro, guardate che non è piccina, questo è un regalo stupendo a chi sa apprezzare le cose, fatte con amore, è ovviamente italianissima, ecco io dico quando verrà a mancare, speriamo il più tardi e il più lungo che viva più lunga possibile la Fabiola, avremo perso anche qua un'altra possibilità di ammirare queste piccole opere d'arte, piccole opere d'arte, perché sono delle piccole opere d'arte, 87 euro. Ok, adesso andiamo sul questione delle idee regalo, facciamole subito, sì dopo facciamo le lenzuola, allora 112, l'812, non ve le ho confezionate altrimenti andavamo su di prezzo, però nulla vi vieta, se desiderate la confezione regalo aggiungete 25 euro, e io ve le mando all'interno della bellissima cassetta o in legno o in ferro battuto, aggiungete 25 euro e io vi faccio la confezione regalo. L'812, cos'è comprensivo? È perché non hai diversificato il play del colore e il colore. Il tappeto, possono scegliere il colore che vogliono? Sì, sì, sì. Il tappeto possono scegliere il colore che vogliono, c'è solo una coperta beige, il resto sono tutte quante così, tutte quante in un colore sì lilla. Allora, comprensivo di tappeto antiscivolo italiano, l'avete visto, la bandiera, si può mettere in camera da letto, in cucina, dove c'è magari il lavandino che goccioli di più quando lavi i piatti, che sciacqui, che lavori, no? O davanti ai fornelli, o in entrata, o in un corridoio, o dove volete voi, nella cameretta degli ospiti, nella cameretta dei vostri figli, dove volete voi. Le misure di ogni tappeto sono un metro e trenta per sessantacinque, è un misto cotone antiscivolo, vi faccio vedere i profili anche alla parte sotto. Li ho scelti perché sono molto belli, sono classici, ma è il classico bello. Allora, nelle tonalità o in rosa o in colore grigio, o in rosa o in colore grigio, più insieme ve lo mando a casa con il pleide, un metro e trenta per un metro e sessanta, ve lo devo aprire uno, almeno uno ve lo devo aprire. Eh, vabbè, non lo apriamo, sai che bisogna aprirli? Eh, vabbè. Allora, questo non è matrimoniale, questo è un metro e trenta per un metro e sessanta. Agnellato, già l'avete visto matrimoniale nelle ceste regalo, non ne hanno più, perché sono questi, sono stati i pleide, sia matrimoniali che singoli, più belli in assoluto, che sono piaciuti di più anche agli altri negozianti. Allora ne ho solamente uno in beige, che è questo qua. E il resto vi posso accontentare in questo bellissimo lilla, che è uguale a quelli là matrimoniali che vi avevo proposto un po' di tempo fa col cesto regalo. Agnellati, sono pleidi di qualità superiore. Allora, il tappeto a vostra scelta, con il pleide, sessanta tre euro. Si può spendere molto di meno in base al pleide che scegli. Me li ha proposti anche ieri a tre euro e cinquanta, i pleide, no, tu ascolta, quelli a tre euro e cinquanta, a cinque euro, quelli te li tieni te, non li voglio e ti ringrazio. Voglio solo i pleide belli. E io l'ho detto io, grigio. Allora, pleide, pleide, grigio o rosa? Pleide, o in tappeto, o in grigio, che coloro vedi te? Vabbè, un grigio e un azzurro proprio chiaro, chiaro, chiarissimo. Eccolo qua. O il pleide più il tappeto in rosa. Sessanta tre euro. Se lo volete in una mega confezione regalo, aggiungete venticinque euro. Io non me la so sentita di fare la confezione perché poi tutti sti soldi. E allora, ho lasciato perdere. Chi vuole la confezione natalizia, cioè parliamo del centro tavola, tutto in farro battuto, con le ghirlande, spende venticinque euro in più. Faccio sessanta più venticinque, ok? Tolgo i tre. Sessanta il completo. Venticinque euro in più. Ve l'ho trovato in confezione regalo. Chi lo desidera? Se invece voi lo desiderate così, dimmi. No, allora, beige ne ho solamente una. La prima e unica signora che l'ho acquista in beige, solamente una, mi dispiace. E allora, beige non c'è più, è andata via. Ok, grazie. È andata via con la polizia. E poi, ce l'ho in questo colore lilla. Ripeto, questo è il pleide, cioè la fantasia più bella in assoluto. Agnellato. Sessanta tre euro. Ripeto, chi vuole la confezione regalo, venticinque euro in più, gliela metto bellissima nel cesto, quelli bellissimi nostri, tutte infiocchettate, con tutte le decorazioni natalizie, venticinque euro in più. Va bene? E fa un mega regalo. O se lo auto fa per se stessa senza cesto. Eccoli qua. Tappeto assolutamente di grandissima qualità, avete visto la bandiera italiana, non è di importazione il tappeto, assolutamente. Chi desidera un bel tappeto, praticamente quasi una corsia, ecco l'acqua, questa è nella variante grigio-azzurra e questa è nella variante rosa. Va bene? Sessanta tre euro. Guardate che sono belli i tappeti, eh? Vedi, guarda le finiture. Ecco, cioè non è una presa, è fatta una roba presa sputata là, no, assolutamente. Vedi, tutta fatta col cordoncino, vedi, questo ve la sto facendo vedere sotto. Sempre accuratissime le finiture. Faccio vedere. Eccolo qua. Guarda, vedi? Mi raccomando. Mi raccomando, eh. Ok? Antiscivolo. Ripeto, anch'io ce l'ho in cucina, ho una corsia, ne ho due, una lava e una mette, una mette e una lava e non riesco più a star senza. Della stessa qualità. Ce l'ho leggermente più lungo, costa anche di più. Ho scelto questo qua perché? Perché questo Natale vedo che ho un po' più sottotono, un po' più triste dell'anno scorso. Me ne sono accorta io, se non sono accorti tanti. Ecco, allora, per evitare di farvi spendere più soldi o magari che dite no, costano troppo, invece di scegliere la corsia che costava molto di più, ho scelto questo che non è piccolo, eh. Cioè, è una bella sventola. Dimmi, amore. Può farlo, assolutamente. E te lo dico domani, va bene? Va bene? Ok. Luca, guardami! Sessanta. Sessanta. Va bene? Ok. E questa è un'idea natalizia. Si presenta bene, insomma. Poi, andiamo avanti. Un'altra idea qui, invece, ho detto, ascolta, o vi piace o non vi piace, costa un po' di più, però guardate quello che vi butto dentro. Che bello. Allora. Proposta 113. Attenzione, questo è un regalo scicosissimo. Penso che sia evidente. Allora, vi metto all'interno. Ovviamente, aspetta che devo spiegare. Non ve la mando a casa così. Ve la devo mettere la ghirlanda natalizia e ve la confeziono, ve la inciocco. Chiusa con la pellicola. Ci siamo? Non ve la mando così. L'ho lasciata così aperta perché altrimenti la Brenna ha detto che mi manda a quel paese e poi mi ci tocca anche andare perché continuo a distruggirgli le confezioni in diretta per farvele vedere. Cosa troviamo al suo interno? Troviamo. Le ciabatte sono in misura unica da bagno e da camera, in spugna, anche qua antiscivolo, misura unica, spugna, lino, pizzore brodè. Lino, ripeto, pizzore brodè. Allora, trovate le ciabatte, trovate la scatola, libro, da metterci i bonbon, le caramelle e anche questo è un regalo. Attenzione. E più trovate la coppia di asciugamani stupendi in spugna, lino e balza in pizzore brodè. Le misure sono 60x40 questo e 60x110 questo, ci siamo, che va abbinato alle babucce, alle ciabattine da camera o da bagno. In spugna, sono in spugna, esci dalla doccia, eccoli qua, ti trovi già che ti asciuga i piedi perché ti infili i piedi e anche non cadi e ti rompi la testa. Allora, questa è nella variante in rosa, sono uno, due, tre e più. La cesta, la cassetta, non la cesta, la cassetta in legno, legno, eh, legno bianco decapato. Che già, allora sono uno, due, tre, quattro regali, quattro regali, 78 euro. Rosa, rosa non me l'hai scritto bestia, rosa, questo è rosa. Questo è nel colore ecru, scrivimi anche rosa, amore. Questo è nel colore ecru, lino e pizzore brodè, scatola libro, questa l'ha messa la decorazione pertanto per rendervi un'idea, e la coppia di asciugamani in ecru con la balza in lino e pizzore brodè. Ecru, allora, così, confezione regalo, la scatola libro, le ciabatte da camera barra bagno, e la decorazione natalizia e più ovviamente la cassetta in legno bianco decapato. Questa è nel colore panna, girale per piacere perché la Roberta non c'è arrivata, eh, non c'è arrivata ieri. Ehi, non ho capito. Eh, no, stela, dopo ti faccio i conti, adesso non riesco, amore. Ecco qua, allora, guarda, questa è nel colore panna, scrivi tre tappeti, domani faccio i conti. Allora, questa è nella variante panna, allora troviamo la coppia di asciugamani panna con la balza in lino grigia e il pizzore brodè panna, la ciabattina da camera barra bagno in lino e il pizzore brodè panna, tutte in spugna all'interno, vedi? Fate apposta per uscire anche dalla doccia senza romperti le corna e poi la scatola libro e più la cassetta. Questa è nella variante panna e poi ce l'abbiamo anche nel variante bianco, eccolo qua, stessa solfa, bianchissima. 78 euro, eh, questo è un regalo prezioso, se vi va di fare un qualche cosa ad autoregalarvelo, eccolo qua, siete ovviamente in un livello molto alto di regalo. Invece di fare il cestino con il cibo fate questo qua, la signora o chi per esso che lo riceve lo gradirà assolutamente, assolutamente, ripeto, la misura delle ciabatte è unica, va bene a chiunque, sono ciabatte da camera barra bagno perché sono tutte l'interno in spugna, lino, vedi? Pizzore brodè che si va a congiungere perfettamente con il set di asciugamani gioiello. 78 euro, ve la mandiamo a casa in confezione regalo, confezione regalo, sono stupendi, eh? Mi sono stupendi, allora scatola, contenitore, scatola, porta cioccolatini, porta bonbon, ciabatte, coppia di asciugamani più la cassetta enorme in legno bianco decapato, 78 euro. Se volete fare un regalo, che regalo comunque si deve chiamare, non a cosa, mamma mia mi tocca fare regalo a quella là, lasciate perdere, fate più bella figura. Poi adesso ci facciamo girare il cameraman dall'altro lato con calma perché abbiamo una novità che adesso la vedrete. Attenzione per le cose belle che vi faccio vedere adesso, è due minuti di stacco, ma due minuti, non tre, due minuti di stacco che andiamo sull'angolo della teleria per la casa. Fermela, eh? Grazie a tutti. 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 Solo l'originale. Blu Marine, articolo rosita, 149 euro. Il sotto in tinta unita, il sopra le federe sono tutte in fantasia floreale. Federa grandissima a sacco, eccola qua, 149 euro. Scusate signore, ma non ho fatto in tempo a farvi da A. Fatelo voi i quattro conti, sapete che Blu Marine è un piacere, è un onore possedere un capo Blu Marine. Solo gradite, eccolo qua, 149 euro, articolo rosita. Andiamo avanti. Copri piumone, più lenzuolo sotto, tinta unita, più le due federe. La richiesta è di 195 euro, sempre nella tonalità del rosa. Copri piumino, copri piumino, completo di lenzuolo sotto, più le due federe, colore rosa, articolo rosita. Copri piumino, ecco qua, ecco qua la confezione, 195 euro. Ripeto, perché devo ripetermi tante volte, questo è lenzuolo tinta unita sotto, questo è il sacco copri piumone e queste sono le due federe. Penso di essermi spiegata bene. Non è finita, tienici già, per chi vuole tutto il completo, arredare la propria casa. Trapunta matrimoniale Blu Marine, articolo rosita, colore rosa, che si va a sposare perfettamente con le lenzuola. Il peso dell'imbottitura è 340 grammi, le misure sono 270 per 265, in questo bellissimo fiore, queste bellissime rose sfumate, rosa confetto e questo bellissimo rosa intenso. Firmato per esteso Blu Marine, cotone sotto, cotone sopra, il cotone sotto è rosa, rosa confetto, 216 euro. Guardate, ok via, pezzo unico, non sono andata ovviamente a impegnarmi con decine e decine di trapunte, anche perché sono cose preziose. E questa la salutate, una cenera ed è andata via e le vi ringrazio. Poi facciamo lo stesso giro, facciamo lo stesso giro con un altro colore, sempre della Blu Marine. Allora, proposta 88, completo lenzuola matrimoniali della Blu Marine, sopra, sotto le due federe, stavolta ce l'abbiamo nel colore azzurro. Allora abbiamo il lenzuolo sotto con gli angoli azzurro, tinta unita, il sopra e le due federe in fantasia a rose azzurre, 149 euro. Eccola qua, 149 euro, sopra, sotto e le due federe, 149 euro, misure maxi, 149 euro. Azzurre, tutte firmate per esteso, il logo Blu Marine. Prenotatelo, fatevelo mettere da parte. Ecco qua, allora, questo è il completo lenzuola. Poi, stesso giro, lotto successivo, lotto 89, il completo, sacco, copripiumino matrimoniale, più lenzuolo sotto, tinta unita azzurro pallido, azzurro polvere, più le due federe a 195 euro. Lotto 89, sacco, copripiumone matrimoniale, più lenzuolo sotto, più due federe, 195 euro, sacco, copripiumino matrimoniale. Avete vestito tutto il letto, ok? Colore azzurro. E poi concludiamo con la stupenda trapunta declinata nei colori. Ecco calma, con calma Brenda, siamo anche in anticipo, non ti preoccupare. Eccola qua, nei colore azzurro. Se volete vestirla con le lenzuola, eccola qua, fate il completo. Tutta logata per esteso, blue marine, dove vuole acchiapparla la chiappa. 340 grammi il peso dell'imbottitura. Il sotto, anche qui, la di prima era in rosa pallido, questo in azzurro pallido, la parte interna, la parte all'interno, la parte sotto. Vediamo l'effetto che fa, spero si possa capire meglio com'è la bellezza di un'altra punta indossata. Nel vostro letto, 216 euro. Praticamente con 216 euro acquistate la trapunta medio-alta. Qui invece siamo sull'altissimo perché stiamo parlando della blue marine. Va bene? 216 euro. Fateci sapere se risulta più bello con il letto, che così riusciamo a spiegare un po' meglio. Lavoraccio che ha fatto il mio marito con Antonio e i falegname l'altro giorno, che si sono mezzo ammazzati per portarle qua. Antonio e papà e Geppetto. Va bene. Antonio e basta? L'hai portato solo da te? Vabbè, se non fosse per Antonio, guarda. Ok, ok. Allora, andiamo avanti. Proposta 91. Facciamo lo stesso giro. Questo è declinato nel colore corallo. Lenzuola, matrimoniali, blue marine, sopra, sotto le due federe. Colore corallo. Il sotto è in tinta unita in rosa corallo. Vi faccio vedere una federa. 149 euro la richiesta. Stessa richiesta degli altri colori, anche declinata nel colore corallo. Le vedete? Sono federe grandissime. Se magari vi piace questa tonalità più intensa. Poi anche qua ho la copri più mino e anche l'altra punta. 149 euro. 149 euro. Cosa vuoi? Eh vabbè, eh, porta pazienza. Allora, 100, qua non serviva che me lo dicessi, sai? Già l'avevo detto io quando sono entrata qua. Io sono nato per comandare. Tu sei nato per comandare. Vabbè. L'importante è che sei contento te. Dunque, eccola qua. Sopra, sotto e le due federe in colore più intenso. Abbiamo il beige, chiarissimo. E abbiamo il crosa corallo intenso. Tutto logato, blue marine. E la metto qua all'interno della sua busta. Aspetta che ve lo metto via bene. Eccolo qua. Poi, lotto successivo, 92, completo, sacco copri piumone matrimoniale, sotto, lenzuolo sotto in rosa corallo. E due federe, 195 euro. Tutto logato, blue marine sempre. Ok? Questo è il sacco copri piumone. Che non li prendo mai. Comunque, dopo mille richieste, vedete? Ecco, cerco di accontentarvi. Fatemi contenta anche a me. Fatevi sentire che apprezzate il sacco copri piumone. Ma non hai il sacco copri piumone? No, perché non vanno via. Ma perché non le prendi? Ma non mi chiede. Ma io te lo sto chiedendo. Va bene, le compro allora. Ecco qua. Allora, sotto tinta unita e sacco copri piumone e le due federe in stampa grandissime rose color corallo. Poi facciamo lo giro totale completo anche qua con la trapunta in color corallo. Rose schiuse, corallo. Eccola qua. Sempre 340 grammi il peso dell'imbottitura. Eccolo qua, letto matrimoniale. 2,70 per 2,65. Sotto è un colore rosa più intenso perché praticamente è lo stesso colore delle lenzuola sotto, sia del copri piumone, sia del completo lenzuola. Se vi fa piacere vestire di rosa corallo, 216 euro. Blu Marine sempre, siamo sempre a casa della Blu Marine. Facciamolo vedere tutto. 216 euro. 16 euro di acconto e poi te la paghi anche dopo Natale. Pezzo unico. Quando è andata via, è andata via. Io non ne ordino più. Vado avanti perché poi ne ho anche di preziosissime, da 700-800 euro. e anche da quasi 1.000 euro. Ecco qua. Questo è proprio un prezzaccio. Poi andiamo avanti. Cambiamo un'altra tavolozza colori. Vero Chica? Cambiamo anche proprio articolo. Sempre della Blu Marine comunque. Questo è il Crisel. Vero? Non te lo ricordo. Il nome non me lo ricordo. Allora, questa è la proposta 97, sì, precisamente. Allora, lenzuolo, coperur completa, lenzuolo matrimoniale, sopra, sotto e le due fede. Proposta 97, sì. Charlene, cos'è che è saltato? Aspetta. Dammi, dammi. Aspetta che devo dare dammi, dammi. Aspetta, cos'è che hai? Dimmi. Cos'hai fatto? Io faccio quello che vuoi. Te sai. Ah, ok. Allora, andiamo con la proposta 94, completo lenzuola matrimoniale, sempre Blu Marine. Questo è il colore rugiada, rugiada, sopra, sotto le due federe. Sono tutti belli. Il lenzuolo sotto è in tinta unita bianca e le lenzuola e le due federe sono in questa tonalità di bianco con una fioritura in azzurro. Eccola qua. Sopra, sotto le due federe, 149 euro. L'articolo si chiama Charlene. Sopra, sotto le due federe. Questo è un azzurro polvere con qualche colore e tonalità anche di celestone. Poi abbiamo tutte queste fiorilini in grigio perla appena appena accennati. Va bene? Sopra, sotto le due federe chi ama o chi ha lo stile della sua camera da letto, chi ci sta bene e chi si sposa bene con le tonalità dell'azzurro. O chi magari è stanco di vedere il rosa. Eccolo qua. Questa è la parur lenzuola e la metto via così. Poi anche qua abbiamo la parur, il set completo, copri piumone matrimoniale, completo di lenzuola sotto le due federe ed è la proposta successiva a 195 euro, sempre nel colore rugiada, vedi? Parur, sacco copri piumone, due federe anche qua e lenzuolo bianco sotto con gli angoli. vesti tutto il letto anche qua, chi ha il piumino d'occa, il piumone, va bene? Ok. 195 euro, sempre tutto logato, blu marine. Ecco qua i colori, 195 euro, tanta roba, vedi? C'è tanta roba anche qua. Cento da sopra, sotto le due federe. E poi anche qua completiamo il tutto in abbinamento con la trapunta, sempre nel declinata e nel colore rugiada, bianco il fondo, con fiorellini in grigio perla e grande rose, più che rose sembrano delle peonie quasi, in azzurro polvere e celestone, tutta con la scritta per logo per esteso, blu marine. 96, 216 euro, pesa 340 grammi l'imbottitura, 340, 216 euro. Sotto è in puro cotone bianco perché si va a congiungere con le lenzuola sotto, in puro cotone bianco. Va bene, via e rugiada. E adesso andiamo con un altro colore. Vi piace con il letto, sì o no? Fatemi sapere se vi piace con il letto, che riusciamo a capire meglio. Adesso? Adesso giura che è l'8,97. Completo, lenzuola, matrimoniali, sempre e senza vai cambiare, blu marine. Colore corallo, qui le rose sono più piccine, ve le faccio vedere. Il sotto è in colore beige, appena percettibile. E queste bellissime fiori sfumati in colore corallo. Eccolo qua. 149 euro, charlene. Sfumati in rosa, un po' di corallo, vedi? Sopra, sotto i fiorellini stavolta sono in un beige rosato, cipria praticamente, vedi? Quelli di prima su rugiada erano in grigio. Questi invece sono nel colore cipria. E poi ci stanno questi qua, bellissimi, sfumati in queste tonalità di rosa che vanno dal più chiaro al più scuro. Sopra, sotto e le due federe, lenzuola 149 euro. Dovreste buttarvi a capofitto a pesce su blu marine in questi prezzi qua. Capito? Ecco perché da qua intuisco che è un Natale ancora più triste degli altri Natali. Proposta 98, completo, sacco copripiumino, piumone, lenzuola sopra e federe a 195 euro. Allora, questo è il sacco copripiumone, questa è il sotto, lenzuola sotto e queste sono le due federe. Eccole qua. La richiesta è di 195 euro, pagatene un pochino alla volta. Se volete riceverle anche dopo Natale, a noi non ci cambia nulla. Completo, sacco copripiumone, con lenzuola sotto. Tutto, siete vestiti completamente in letto. E anche qui abbiamo da proporvi la bellissima trapunta matrimoniale, sempre. Anche qui 2,70 per 2,65 metri, il peso non cambia, è di 340 grammi. Tutto cotone, cotone sopra, cotone sotto, eccolo qua, a 216 euro. 216 euro. Pagatela un pochino alla volta. Immaginano, vestita con le sue lenzuola, che metti la balza delle lenzuola che escono così nella stessa fantasia e le bellissime federe, viene fuori un sogno. È assolutamente un sogno. 216 euro. Charlene, pagatela un pochino alla volta. Ecco qua. E tolgo anche questo. E adesso ci sono quelli con i bocciolini, vero Ciccia? Sì. Ok, vai. Adesso cambiamo un altro articolo. Partiamo anche qua dalle lenzuola. Guardate questo. Qua farò rimanere senza parole mia figlia Valentina, che è mafa, ma tu quella con i bocciolini non puoi averle. Ah, sì. Eccole qua. Allora, no sai. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti con le lenzuola. Proposta 100. Guardate questo. L'articolo si chiama rosa. Sono tutti i boccioli di rosellino e ogni tanto c'è un bocciolo più grande. Sopra, sotto e le due federe. Il sotto e in bianco tinta unita. Guardate che spettacolo. È che mia figlia adesso a lavorare, non le vede. Ma io devo ancora dirglielo che le ho portate a casa. Eccole qua. Il sogno di mia figlia Valentina. Guardate che spettacolo. Tutti i bocciolini di rose. Ogni tanto c'è un fiore più schiuso. 149 euro. Tutto logato ovviamente Blu Marine. E questo è il completo lenzuola. Il logo della Blu Marine è scritto in rosa. Facciamolo vedere Alessandro. Perché, ripeto, anche mia figlia, l'altra, ha preso una fregatura qui in televisione che gli hanno propinato Blu Marine palesemente falso. Una sola proprio praticamente. Ma tanto non gli si può fare nulla. Dunque, fanno delle volte che tanto sanno che c'è l'impunibilità totale per chi truffa la gente. Poi andiamo avanti. Proposta 101. Completo. Sacco. Copripiumone. Federe e lenzuolo sotto. 195 euro. Sempre il sotto lenzuolo con gli angoli bianco. Il sacco copripiumone e le federe tutte a bocciolini. La richiesta è di 195 euro. 195 euro. Sopra sacco copripiumone. Lenzuolo sotto e due federe. 195. Poi andiamo avanti. La maestosità di questa trapunta. ne declinate né i boccioli di rosellina rosa. Eccola qua. Fondo bianco. 216 euro. Così. Eccola qua. È un mare di bocciolini. Tutta logata. Bloomarie. È sotto in tinta unita bianca. 216 euro. Articolo sogno. Da lontano come si vede? Si vede bello? 2,70 per 2,65. Vero che forse dà meglio un attimo la percezione? Lo so che ti mi voglio di fare un tuffo. Ma tu non lo devi fare. Non lo devi fare. O i ragazzi che hanno voglia di mettersi a fare i tuffi qua sopra. Non è il caso. Non mi sembra il caso. No, 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 no. Allora, articolo sogno in rosa. 216 euro. Con questo freddo in voglia. Con questo freddo? Vabbè, ma qua fa caldo, dai. Poi, cosa vuoi te? Finisci. Facciamo quei due regali. Poi le cominciamo. Perché... E quindi cosa devo fare? Le devo regalare perché chiamino a comprarle? No, penso che 216 euro vada più che sufficiente. Allora, dammi quelle trapunte là. Dammi quelle trapunte là perché mio marito vuole che faccia i regali. Dammele un attimo, dai. 109 per la regia. Le signore stanno aspettando i regali. Andiamo avanti di regali qua. Allora, 109 per la regia. Dai, light, 109. Trapunta matrimoniale. Una sola signora, una sola signora a 125 euro da 225. Eccola qua. Dai, light, gruppo battaglia. Da 225 a 125. Perché ho fatto la follia l'altro giorno, eh? Allora, piacciono solo questi prezzi qua. Allora, da 225 a 125. Dai, light, gruppo battaglia. Lotto? 109. 109. Trapunta matrimoniale, lavorata in raso jacquard, in colore e cru. 125 euro. Dai, light, gruppo battaglia. Peso 350 grammi. 270 per 2,65. Da 225 a 125. Solamente questa, questo colore. Puro cotone, anche sotto. È praticamente un beijolino, lavorato a piccoli puas. Proprio piccini, piccini, piccini. Sono quasi praticamente impercettibili. 109. Va bene? 109. Tolgo. 109. 109. 109. 109. 109. 109. 109. 109. Sempre dai light, gruppo battaglia. Poi, 110. Sempre dai light, gruppo battaglia. Questo invece è in colore perla. È un altro articolo. Sempre comunque pesa 350 grammi. Eccola qua. 125 euro. Questo si chiama Valeria. Nella tonalità del grigio del perla. Eccola qua. 350 grammi. I dai light, gruppo battaglia. Se vi piace, è solo questa. È il raso Jacquard. In colore perla, argento praticamente quasi. Lavorata quasi a rilievo. In colore grigio più scuro. 125 euro. Praticamente te la tieni addirittura per emergenza, anche se hai prima acquistato la Trapunta, perché a questi prezzi qua è assurdo. purissimo cotone, anche questo qua è una stampa, un micro disegno anche la parte sotto. 125 euro. Colore argento perla. Eccola qua. Dai light, gruppo battaglia. Al prezzo di un'importazione, 125 euro. Una Trapunta di importazione, a malapena ce la fai anche. A 125 euro, perché sto parlando di belle Trapunte qua. E poi, l'ultima in regalo oggi. 111. 111 per la regia. Questa è una Neit. Sempre gruppo battaglia. In raso Jacquard. È un colore quasi argento, anche questa qua. Sì, di qua, di qua al tondo. Sì, così. Britto e britto. 270 per 260, 350 grammi, perché ha 10 grammi di imbottitura in più che non confrontandole con Blu Marine. Anche questa qua, una sola. 125 euro. Anche a chi magari è stanco dei fiori o a chi gli piacciono i disegni più moderni. 125 euro. Attenzione perché è euforia. Il prezzo suo è di 290 euro. Guardatela. 125 euro. Quello è con i bocciolini. Allora abbiamo fatto vedere la rosa. Adesso facciamo vedere l'azzurra. 103 per la regia. Completo lenzuola matrimoniale. Blu Marine sopra e sotto le due federe con i bocciolini di roselline in azzurro. Il sotto e le lenzuola sono in bianco tinta unita. L'articolo si chiama sogno. L'articolo si chiama sogno. Sopra e sotto le due federe. Eccola qua. Con i bocciolini azzurri. Vediamola da vicino. Forse sto correndo anche troppo. 149 euro. Sopra e sotto le due federe. Blu Marine. 149 euro. Magari è la volta buona che vi fate un bel regalo dell'Aparur lenzuola della Blu Marine. Che magari l'avete sempre sognata. Non ve la siete mai potuta permettere. Poi abbiamo l'804 che è l'Aparur completa sacco, copri piumone matrimoniale più lenzuola sotto con angoli bianca più le due federe a 195 euro. Sacco, copri piumone, due federe e le lenzuola. E poi abbiamo la magnifica trapunta. Sempre articolo sogno con i bocciolini di rosa nell'azzurro. Tutto cotone. Tutto e solamente e esclusivamente cotone. Eccola qua. Eccola qua. Così. Vai pure da vicino, Alessandro, faglielo vedere. No, 105 questo è. Questa è la trapunta, viene 216 euro. 216 euro. Forse ce la facciamo a farvi vedere anche l'ultimo colore. Rosa, azzurro. E adesso che colore ci sarà? Chi lo sa? Sorpresa. 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 E vai. E noi sosprendiamo. Sosprendiamo. Allora, completo lenzuola matrimoniali sopra, sotto le due federe. Articolo sogno. Ne colore rosso. Che poi è un rosso sfumato. Eccolo qua. Vado via di velocità. Il sotto è bianco, eh. Il sotto le lenzuola bianche, con gli angoli, sono bianche, eh. Poi abbiamo sempre il parour completa, sacco copripiumone, lenzuola sotto con gli angoli bianco e le due federe. Questa è la proposta, 107, viene sempre 195 euro. Il sacco copripiumone, 250 per due metri. Questa è la proposta, 107. Completo parour, copripiumone, federe, lenzuola. e vi lasciamo con la meraviglia della trapunta con i boccioli in rosso. Ecco qua. Tutto cotone, solo ed esclusivamente cotone. Tutta logata blu-marine. Eccola qua. 216 euro. Allora, rosa, azzurro o rosso. Avete modo di fare sia le lenzuola, sia il sacco copripiumone completo proprio vestito e tutto il letto e sia la trapunta in tutti e tre i colori. Sotto è in bianco accecante, bianco candido. Sono tutti logati, aspetta che vi faccio vedere l'originale, mi raccomando. Vedi, blu-marine. Ci siamo? Gli originali. Soffice, meravigliosa. Basta. È 340, l'ho detto 49 volte. Con questa 50. Ok. E la gallina canta. Allora, signore, io vi lascio anche un po' in anticipo. Spero sia stata la puntata che, non so, è piaciuta, sono piaciuti. È che purtroppo abbiamo perso anche tante zone, vabbè, ma tanto ormai è l'abitudine. I canali più avanti non c'è problema. L'82, l'83, ecco, mai sono diventati terra di nessuno. Vabbè. Sì, vabbè, se vuoi fare te, visto che sei simpatico oggi particolarmente, come i calli, sei simpatico oggi, se vuoi venire qua. tu sei oggi, sei simpatico come i miei calli, anzi, come il mio alluce valgo. Dunque, sì, abbiamo fatto vedere tutto. Io vi ringrazio, spero che sia stata una puntata piacevole, sono piaciute le cose, gli articoli nuovi che abbiamo portato oggi, le maglie, e magneria, sì, tante signori le conoscevano già. Se avete piacere, solo se avete piacere, guardateci venerdì, venerdì faremo una puntata più sul lusso, sulla teleria, perché ci sono signori che mi stanno chiedendo anche cose di lusso, che se le vogliono pagare un pochino alla volta, approfittandone, che hanno avuto quelle quattro palanche in più, vogliono dare un acconto e vogliono approfittarne per l'acquisto magari dell'anno, la trapunta matrimoniale meravigliosa, le parole lenzuola fantastiche e qualche capotto bellissimo, insomma, guardatemi anche, guardateci, anche se avete piacere, venerdì. Facciamo anche venerdì qualche idea regalo, sono piaciute queste idee regalo qua, ecco, mi fa piacere, e cosa dirvi altro? Vi ringrazio, vi auguro una buona serata, una serata serena e se avete voglia, guardate, seguiteci venerdì. Vi mando un miliardo di baci se li accettate da parte mia, da parte di Kira, da parte di tutti i nostri ragazzi, vi ringrazio, buona serata, mi inchino sempre, grazie a tutti quanti voi. le calze a rete, e le babbuce in merletto, via di vestito di raso, coperto da gonne e gonne di pizzo, applicazioni, profili di pizzo, di merletto, cuffiette in testa, riccioli, questa qua la mettete come meglio vi pare, piace, occhi di vetro, questa è gli occhi di vetro, 87 euro. Lavoro, di pazienza, di manualità, eccola qua, spettacolare, della Fabiola, 87 euro, guardate che non è piccina, cioè questo è un regalo, stupendo, a chi sa apprezzare le cose, fatte con amore, ovviamente, italianissima, ecco, io dico, quando verrà a mancare, speriamo, il più tardi, e il più lungo, che viva più lunga possibile, la Fabiola, avremo perso, anche qua, un'altra, un'altra possibilità, di ammirare, queste piccole, opere d'arte, piccole opere d'arte, perché sono delle piccole opere d'arte, 87 euro, ok, adesso, andiamo sul questione, delle idee regalo, facciamole subito, sì, dopo facciamo le lenzuola, allora, 112, l'812, non ve le ho confezionate, altrimenti andavamo su di prezzo, però, nulla vi vieta, se desiderate, la confezione regalo, aggiungete 25 euro, e io ve le mando, all'interno, della bellissima, cassetta, o in legno, o in ferro, battuto, aggiungete 25 euro, io vi faccio la confezione regalo, l'812, cos'è comprensione, eh? è perché non hai diversificato, il play, realizzato tutto completamente a mano, da Fabiola, 110 euro, guardate le orecchie a sventola, uno spettacolo, più brutti sono, più belli sono, ma che carino, ma che musetto, guarda che profilo, guarda, 110 euro, opera unica, l'840, poi, l'841, l'841, gnoma, si dice gnoma? Sì, si può, l'841, gnoma femmina, 55 euro la richiesta, sempre lavorata, tutta infinissima porcellana, vestita tutta quanta dalla Fabiola, dalle babbucce ai pantaloni, la gonnellina in pizzo, l'altra gonnellina in velluto, passamaneria, gira soli, capelli rossi, trecce, mezza mela, la cucinella porta fortuna, 55 euro, 55 euro, te la dico subito quanto misura, è un piacere, misura 32 centimetri, 32 centimetri, eccola qua, la gnometta, 32 centimetri, 55 euro, capolavoro che dalle mani, esce dalle mani della signora Fabiola, guarda che naso che ha, mamma mia, poverina, poverina, guarda che naso, poi andiamo su un gnometto, il tappeto possono scegliere il colore che vogliono, sì, sì, il tappeto possono scegliere il colore che vogliono, c'è solo una coperta beige, il resto sono tutte quante così, tutte quante in un colore, sì, lilla, allora, comprensivo di tappeto antiscivolo italiano, l'avete visto, la bandiera, si può mettere in camera da letto, in cucina, dove c'è magari il lavandino che goccioli di più, quando lavi i piatti, che sciacqui, che lavori, no? O davanti ai fornelli, o in entrata, o in un corridoio, o dove volete voi, nella cameretta degli ospiti, nella cameretta dei vostri figli, dove volete voi, le misure di ogni tappeto sono, un metro e trenta per sessantacinque, è un misto cotone antiscivolo, vi faccio vedere i profili, anche la parte sotto, li ho scelti perché sono molto belli, sono classici, ma è il classico bello, allora, nelle tonalità, o in rosa, o in colore grigio, o in rosa, o in colore grigio, più insieme, ve lo mando a casa, con il pleide, un metro e trenta per un metro e sessanta, ve lo devo aprire uno, almeno uno ve lo devo aprire, eh vabbè, non lo apriamo, sai che bisogna aprirli, eh vabbè, allora, questo non è matrimoniale, questo è un metro e trenta per un metro e sessanta, agnellato, già l'avete visto matrimoniale, nelle ceste regalo, non ne hanno più, perché sono questi, coperto da giri di pizzo, giri di merletto, merletto, coperto da organza, perché non è solo, vedi, qua c'è il tessuto, vedi, per calmarlo un attimo, questo rosa, molto shocking, l'ha coperto da un'altra gonnellina in organza, e l'ha tenuta fissata, con queste applicazioni di merletto e di pizzo, sopra gonna in pizzo, cuffietta realizzata anch'essa, con l'Urex e pizzo, 55 euro, 55 euro. Da che bella? Vedi amore, guarda come sei bella, con una cascata di riccioli, biondi, tutta in finissima porcellana, vi dico quanto è alta, ci mancherebbe altro, il bellissimo fiocchino, questa è alta 23 centimetri, 23 centimetri, 55 euro, voi avete l'idea, capite quanto, c'è dovuta stare dietro, per fare un piccolo gioiello, di questo genere, l'843, 55 euro, l'844, questa è alta, questa è in avorio, 144, questa è alta, 28 centimetri, 28 centimetri, l'844, la richiesta è di 87 euro, questa costa di più, 144, viene a 87 euro, abitino anche qui, tutto in pizzo, vedi parte da sotto, vedi i pantaloni, gnomo bimbo, questo è un gnomo bimbo, l'842, gnomo bimbo, perché si vede che qui ha il viso proprio da giovane, allora l'842, sempre alto, 33 centimetri, 32, 33, quello è la tacca, sempre 55 euro, l'842, vedi, è bimbo, si vede che ha lo sguardo, vedi, ancora da giovane, ha i cappelli, è turchini, il cilindro, vedi, eccolo qua, il cappello a cilindro, ha forma di cono, più che altro, riempito di fiorellini, di stecche di cannella, di fiorellini, 55 euro, con il gilet, guarda che bello, guarda che musetto che ha, veramente bellissimo, fai vedere, ecco questo è un gnomo bello, di solito i gnomi devono essere brutti, questo invece è un gnomo col viso angelico, vedi, anche carino, e lo metto via, poi, bambola, bambola, 143,8, 143, sempre 55 euro, qui c'è tutta la, la garanzia, tutta in finissima porcellana, bambolina rosa, scrivi eventualmente, bambolina rosa, Brenna, vestito creato dalle mani, sempre della signora Fabiola, vestita di tutto punto, scarpettine in pizzo, pantaloncini in shantum, vestitino in lurex, rosa, ées avversi, qui salita. Grazie a tutti.